Terza serata della 26esima edizione del Maggio Fest a Teramo, dedicata al cinema. È stata la volta di cinque filmmaker abruzzesi che hanno portato i loro lavori più rappresentativi sul grande schermo del cinema smeraldo. Ascoltiamo Vincenzo Core in rappresentanza del gruppo. Per noi è molto bello tornare qui al Maggio Fest per la seconda volta. È un'iniziativa che ha già una sua storia. Fa sia da piattaforma d'incontro per le realtà locali e d'incontro non solo tra noi ma anche rispetto alle realtà nazionali e internazionali. Questa sera presenteremo due nostri lavori audiovisivi. Io e Fabio Scacchioli lavoriamo sul rapporto tra suono e immagine. Io sono un compositore e Fabio si occupa della parte dell'immagine ma lavoriamo in stretto contatto. proprio per rendere non le due parti separate o rafforzanti una dell'altra ma in stretta connessione fino a diventare indispensabili l'una all'altra.